Riparte il cantiere per la realizzazione della pista ciclorotellistica in zona Torraccia in un'area di 105.000 m2 nell'area compresa fra il fiume Foglia e il retro di Vitrifrigorena Iperrossini. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Pesaro Andrea Biancani per un progetto rivisto al fine di poter contenere al massimo gli abbattimenti di alberi come d'accordi presi con la consulta della sostenibilità. Il progetto infatti a luglio si era arenato davanti ad un'ondata di polemica in merito a un disboscamento reputato sconsiderato e non concordato. Secondo Biancani, dopo approfondimenti delle 240 piante stimate nella previsione progettuale fatta antecantiere, si è riusciti a scendere a 164 abbattimenti risparmiando 76 alberi tra quelli che compongono la vegetazione spontanea di un'area in cui l'obiettivo, secondo lo stesso sindaco, è quello di realizzare un percorso ciclabile immerso in un'area boscata in stato di degrado e sconosciuta ai più. Le prossime operazioni saranno la bonifica bellica e le operazioni di scavo che si concentreranno nel periodo invernale. L'obiettivo è quello di portare a termine entro il 2025 un cantiere da 2.200.000 euro a beneficio delle federazioni ciclistiche con un circuito da 2,2 km e di pattinaggio da corsa con una pista rotellistica di 600 metri. Il Comune ha anche predisposto un progetto di ripiantumazione in compensazione da condividere con la stessa consulta della sostenibilità.